L'importante era che si potesse ripartire con un po' di chiarezza, per la squadra non è mai stato un problema, sono stati bravi giocatori a starne fuori, a lavorare pensando solo al lavoro senza pensare a tutte le vicissitudini. La Catania è una squadra più che scorbutica, è vero che arriva con tre defezioni, ma è altrettanto vero che basta pensare che hanno le defezioni e davanti gioca Morimoto, che credo sia la più grossa sorpresa, una delle sorprese più grosse di questo inizio campionato, insieme a Mascara e Ricciuti. Come puntualmente succede, ci sono tre o quattro acciaccati, ma se non succede niente stanotte questi dovrebbero essere gli stessi di Milano in idea di Massimo.